E' ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa, una donna di 79 anni sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata in via Nicola Pisano, angolo via Mei, nel quartiere Campo d'Aviazione a Viareggio. Erano da poco passate le 11.30 quando, per cause, ancora tutte da accertare la signora, che era uscita di casa per portare a spasso il cane, è stata travolta insieme all'animale da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. E' stato lo stesso automobilista, un cinquantenne di Viareggio, a dare l'allarme. Le condizioni della signora sono apparse subito gravissime e così, dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elisocorso Pegaso per il trasporto all'ospedale di Cisanello. La strada è rimasta chiusa per molto tempo per permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia Municipale e della Polizia del Commissariato di Viareggio. Il cane che la signora aveva al guinzaglio è morto.